E' giusto quando parlo del parmigiano reggiano, degli allevamenti che sono di grandissima qualità. Ma noi in Italia abbiamo anche degli allevamenti che sono spaventosi, sono dei lager per gli animali, sono criminali perché siccome non li fanno muovere, non li fanno andare all'aria aperta, allora poi li imbottiscono di medicine perché non fanno una vigilia sana. Quando io tengo una gallina in uno spazio così, una gallina che vive in uno spazio così, mi devo dare gli antibiotici. C'è una cosa che si chiama ICQRF perché parlare in televisione e sparare queste cose è molto pericoloso per la nostra agricoltura. Allora se lei parla vuol dire che ha dei miei esempi, allora lei sa cosa deve fare? Perfetto, se lei sa cosa deve fare, denunciarli, denunci, perché se ci sono allevamenti che non... Centinaio, lo porti in giro a sentire la musica classica con le vasche? Grazie.